Due milioni di disoccupati ma le imprese non trovano un milione di addetti. Non è una vera novità secondo lo studio della CGA di Mestre perché nel nostro paese la domanda e l'offerta faticano ad incrociarsi e questo accade anche nel Salento ed in Puglia. Qui le cinque figure professionali più richieste sono camerieri e professioni simili. In questo caso le entrate previste sono di 26.700 unità ma il 36,2% sono di difficile reperimento. Commessi delle vendite al minuto se ne ricercano 23.210, difficoltà a trovarne per il 26,9%. Personale addetto ai servizi di pulizia, di uffici ed esercizi commerciali 18.490, il 21,5% difficile da reperire. Muratori oltre 16.000, introvabili per il 33,6%, conduttori di mezzi pesanti 13.940, difficili da trovare, il 44,3% di queste unità. In generale la classifica provincia per provincia che fotografa la difficoltà che hanno le aziende a reperire personale specializzato e qualificato vede Lecce al centunesimo posto con 32,1% delle figure difficili da reperire. Taranto all'ottantanovesima posizione con il 35,8%, Brindisi sessantaseiesima con il 39%, Bari al novantasettesimo posto con il 33,4%, Foggia al centotresimo con il 31,9%. Anche in Basilicata situazione simile con il 43% delle richieste difficili da soddisfare. Nel settore degli autotrasporti stessa difficoltà per la ricerca di muratori e camerieri più semplici da reperire, commessi e personale addetto ai servizi di pulizia. In questi casi la difficoltà è solo, si fa per dire, del 28,25%.